buonasera 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 Sergio intanto le chiedo subito com'è la situazione a Genova per quel che riguarda il clima il meteo drammatica ancora una volta drammatica il maltempo che si prolunga è previsto anche per la giornata di domenica l'allerta rosso sta facendo danni rilevanti la notte scorsa in val polcevera ci sono stati effetti devastanti delle piogge cadute ormai non siamo più soltanto le sondazioni dei corsi d'acqua c'è una parte del territorio che frana smotta per la quantità di acqua che è caduta che penetrata in profondità è una città di straordinario coraggio sta reagendo reagirà anche a questo dramma ma dopo il ponte si è riproposta una nuova novità con lo stesso carattere terribile negativo quindi dopo vene è successo troppe volte nel corso degli ultimi anni senta è questo tema che insomma seguiremo tantissimo in queste ore chiedo anche lei quello che ho chiesto prima anche a angela corrado con lei pagherebbe prima le tasse o gli stipendi non mi è mai capitata un alternativo di questa natura perché non ho mai fatto l'imprenditore però devo dire che quella che avete raccontato è una bellissima storia la signora ha un coraggio straordinario e anche la sentenza è bella perché di fronte al dovere di pagare le tasse dovere che non viene negato men che meno dagli interessati e garantire un livello di sopravvivenza dignitosa civile alle persone che lavorano salvaguardando un valore che dà la comunità perché un'azienda che produce ricchezza è importante per tutti la signora ha scelto bene ha scelto con coraggio non so quanti avrebbero fatto la stessa cosa io non ho conoscenza di casi simili senta lei è stato è stato sindaco diciamo prima di bologna che cosa ne pensa dell'ipotesi allo studio del governo su cui si sta discutendo litigando da giorni di consentire ai sindaci diciamo così di mettere le mani sui conti correnti di chi non paga le tasse sulla casa ignorare un aiuto un po bizzarro dei bisogni dei sindaci i sindaci sono senza risorse da qualche anno quelle che avevano a disposizione un tempo le tasse locali sono state dislocate diversamente per cui quei soldi faranno senz'altro comodo ai sindaci certo che gli viene assegnata una parte non gradevolissima che è quella di andare a riscuotere cosa che prima faceva lo stato diciamo che si fa del bene con uno strumento nuovo non particolarmente semplice né gradevole da gestire da parte degli interessati ma in fondo la vita dei sindaci è sempre una vita difficile si aggiunge una difficoltà ulteriore ma questa volta almeno può andare a fin di bene sì però ecco mi metto nei panni di una persona che magari cambia indirizzo non gli arriva il documento e si trova il conto corrente pittorato l'incidente può sempre succedere l'equivoco il contrattempo no il principio è giusto quello che ha detto anche cofferati il principio è giusto quelle quei soldi che si e sindaci sono autorizzati a esigere vanno per il bene della comunità e quindi dov'è l'obiezione possibile qualcuno ha detto allora mettiamo i soviet sono sciocchezze in realtà sono tasse che vanno pagate poi che le esiga lo stato o il sindaco lo stesso senta cofferati nella bologna di cui lei è stato sindaco nel 2005 ricordiamo è esploso il movimento delle servine movimento diciamo di anti salvini che differenza c'è fra queste piazze che si stanno vedendo in questi giorni e quella ormai diciamo di storica del circo massimo la sua piazza quella che disse di no all'articolo 18 anche lì ci si riuniva per dire di no a qualcosa ma o anche per dire di sì cioè qual è la differenza fra le due piazze le due motivazioni guarda quello che sta capitando in questi giorni promosso da tanti giovani è molto bello e anche di grande interesse quando ero sindaco a bologna ho visto nascere il movimento di grillo la prima adunata grillina si fece in piazza maggiore sotto le finestre del palazzo da cursio grillo fece il suo comizio quello famoso del vaffan sì ora io credo che ci sia una cosa molto bella in quello che stanno facendo questi ragazzi che è la difesa di diritti senza ostilità aggressione senza un linguaggio volgare il linguaggio è molto importante e purtroppo troppe volte trascurato bisogna essere in grado di prospettare le proprie esigenze senza in alcun modo offendere la persona che ti sta di fronte che magari ha un'opinione diversa dalla tua il circo massimo fu un evento straordinario per la dimensione e perché aveva al centro non una condizione materiale o immediatamente materiale ma un diritto il diritto di poter continuare a lavorare di non essere cacciato dal proprio lavoro per ragioni prive di fondamento per ritorsioni per motivi politici dunque garantiva la dignità il mantenimento di quella norma alle persone che lavoravano tra qualche mese ricorrerà il cinquantesimo anniversario dello statuto dei lavoratori il maggio del 1970 lo statuto garantiva diritti individuali oggi quello che chiedono i ragazzi che sono scesi in piatta è il rispetto di diritti collettivi quelli che sono nella costituzione fondamentalmente poi passare da un secondo saluto corrado che ha un treno che quindi deve scappare grazie corrado al jas e che tra pochi istanti esce di qua per entrare vai vengo vengo fai sa che è qua dirato allora volevo ancora chiederle questo che cosa succede se la sinistra perde in emilia romagna Sarebbe un pessimo momento per la sinistra ma io non credo che il risultato dell'Emilia Romagna avrà incidenze risolutive sulla vita del governo il governo può cadere per le ragioni che vediamo tutti i giorni purtroppo perché ci sono dissensi profondi tra i componenti della coalizione su temi rilevantissimi se non vanno d'accordo su questi temi se non trovano punti di mediazione possono arrivare anche ad una crisi di governo senza ritorno ma non è il risultato dell'Emilia Romagna certo la sinistra ha nell'Emilia Romagna come aveva ai miei tempi in Bologna un punto di riferimento storico però non è che se vinci o se perdi cambia la politica nazionale avrai un problema in più oppure l'incentivo ad andare avanti su una strada che avevi imboccato in precedenza ma credo che ci sia troppa strumentalità che viene caricata sulla campagna elettorale dell'Emilia Romagna e sui suoi risultati in qualche misura si era detto la stessa cosa forse in forma un po' più tenue per l'Umbria bisogna che le forze politiche in campo facciano tutto ciò che serve per vincere dando il meglio di sé rafforzando però con il loro comportamento la cosa che a me pare più delicata insomma questa esplosione di volgarità e di risse continue e di violenza grazie grazie Sergio Conferati grazie davvero